E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash Oggi troviamo un livello che mi ricorda un Hard Insane Demon Che è Theory of Firepower Questa prima volta si chiama Firepower e basta C'ha quella canzone lì E vediamo la pratica di questo livello Vediamo se è alla nostra portata Easy Demon quindi Vediamo un po' Ok si inizia con una parte lenta C'è un mini spam lì Parte automatico Ok nave Nave abbastanza difficile Però Ok wave subito dopo quei lufolini Non mi piace per niente Ah E che cazzo devo fare Ah c'è un orb blu qua Ok Non l'avevo visto sorry Robot abbastanza easy Nave altrettanto easy Comunque abbastanza leggibile Get on it Ok c'è una parte abbastanza difficile No Allora rifacciamo No No c'è robot Nave Ok nave ufo wave Spam Dash orb Che va premuta un po' dopo Che se no si buga Che se no si buga Non riesco a preverla dopo Ok adesso ci sono uscito Ok una cosa particolare Poi qui c'è un lampeggio Ruota Wave facile Nave Abbastanza semplice Wow Ah questa è una ship Ok Allora Aspetta Ah era automatico quello Ok Wave al contrario Beh è roba abbastanza facile Quindi non so che cosa debba fare Ok Parte doppia Ok Finita la parte doppia C'è questo Non ho capito Ok Completamente automatico Nave Spam con l'ufo Rispam con l'ufo E finisce Un sacco di spam Eh vedo Questo livello Però Possiamo tentare di fare qualcosa Ok Get on it Ah 31 31 come first try Deciso diciamo Ah Sono morto nella winning wave Eh Sono morto nella winning wave 35% No 39 Ma guardate quanti cazzo Is tentativision miss Per fare solo il 39 Dai No L'ho premuto cazzo Quello Dai Non mi puoi dire così Perché Dai Che schifo Ma che schifo Ah Non mi ricordavo un cazzo C'è una ship dopo quello Non aveva preso il portale della gravità Te ne rendi conto Il portale della gravità Ah Ci Ah Ti Ah 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 Get on it. Yes! L'affanculo! Che cazzo firepower! Quanto cazzo mi sei costato? Porca puttana! Porca vacca sposa! 102 tentativi! Questo non è il medium demon secondo me? Questo è il medium demon tantissimo Però comunque l'abbiamo finito ragazzi Nel prossimo episodio faremo qualcos'altro Non lo so che cosa faremo Perché non toccherò il giorno di trash per 15 giorni Dato che sarò al mare Anzi questo probabilmente sarà uno degli ultimi video Che uscirà al 26-27 Non lo so Dopodiché riprenderò normalmente E niente ragazzi Quindi vi saluto Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi E ciao a tutti!